Monza e i suoi quartieri tornano a trasformarsi in un palcoscenico diffuso all'aria aperta. Ripartono con un'offerta ampliata rispetto allo scorso anno i venerdì sera di musica del Monza Live Sound Festival con circa 90 band amatoriali selezionate provenienti da più parti d'Italia che si alterneranno per tutto luglio con più appuntamenti. Dopo le serate di apertura in Piazza Roma e allo Spazio Rosmini l'evento va ora in scena in quattro postazioni del centro come le Piazze Roma, Duomo, San Paolo e San Pietro Martire. Abbiamo ricevuto oltre 300 candidature non solo da Monza e Brianza ma anche da fuori regione e abbiamo dovuto fare anche in questo caso purtroppo una selezione cosa che ci spinge tuttavia a insistere l'anno prossimo sicuramente cercheremo di aprire ancora di più questo momento che vuole trasformare la città in una grande sala prove all'aperto. Dal pop al rock, dal country alla musica psichedelica fino ad arrivare al metal e al cantautorato dalle 18 alle 24 dei prossimi venerdì sarà il talento di band e musicisti a riempire di note le serate monseglie. Vogliamo portare anche quest'anno fuori dalla sala prove le persone che amano la musica e la praticano e magari non trovano spazi in cui mettersi appunto alla luce del sole, portiamo quello che è underground, overground.